Salutato Gesù Cristo, vi saluto carissimi fratelli e sorelle italiani in Italia e anche fuori Italia. Info da Padre Jarek, oggi sabato 21 marzo 2020, in questo tempo di coronavirus, ma anche il tempo di testimonianza dell'amore, tempo di testimonianza della nostra fede. Carissimi, allora ieri non avevamo informazioni, ma ogni tanto, come vi dicevo, manderò anche, diciamo, questo servizio. Come vedete, le nostre celebrazioni, la Via Crucis, ieri anche le Santa Messe, Santa Messa per italiani, tramite il canale Charbel TV in YouTube, ogni giorno, ore 18, ma anche poi l'adorazione eucaristica, ore 20.45, ogni giorno. Allora, questo mio saluto, come vediamo, certamente il tempo è difficile. In Polonia oggi abbiamo circa 500 casi di quelli che sono con coronavirus, diciamo, ma oggi anche hanno chiuso una, diciamo, struttura dove casa per i studenti a Pozna, 200 studenti per quarantena, hanno trovato anche caso positivo di coronavirus. Ma certo che in questi paesi non sono tanti ancora casi, ma piano piano si vede anche che si sta anche allargando questa epidemia. Ma ci sono anche quelli che guariscono, anche in Polonia. ieri è stato, diciamo, mandato, è uscito dall'ospedale, diciamo, quello che prima ho portato coronavirus nell'ospedale due settimane fa, allora a caso zero, così diciamo. Ma preghiamo, preghiamo tutti insieme. La nostra preghiera è molto importante e poi vi raccomando, nelle vostre case state con amore, state con perdono, non si arrabbiate uno contro l'altro, perché sarà una cosa ancora più difficile di mantenere tutto quello, ma non sappiamo in certi posti dove siete chiusi a casa quanto tempo ci vuole ancora, perché, come vediamo, in Italia i casi anche sono in aumento, ma certamente dobbiamo essere molto forti in questo momento, molto forti. Poi io cerco in ogni modo di essere più vicino a voi. Veramente per me è un impegno quotidiano molto forte, non ho tempo molto per me stesso, perché sto pensando di voi, sto pensando come raggiungervi, ma è veramente bello, migliaia di voi, anche vi chiedo, parlate gli altri che si possano con noi collegare sempre ogni sera alle sei, ma certamente ieri sera quando ho scritto un articolo intitolato Il coronavirus non è un alibi che possiamo, diciamo, nascondersi con nostro carattere dietro, con nostra rabbia, con tutto dietro, perché dire io oggi sono così perché sono nervoso per questo coronavirus, io oggi non ti voglio dire la parola ti voglio bene, ti amo perché sono teso, perché tutta causa di coronavirus, io ti attaccherò perché non riesco a mantenermi causa di coronavirus. No, noi oggi guardiamo Gesù, guardiamo verso il suo volto, guardiamo perché il sguardo di Cristo cambia, come voi sapete anche dal Vangelo, bastava il sguardo e tanti l'hanno seguito con amore. E questo è oggi molto, molto importante. Molto bene, come vi posso dire, funziona anche, non soltanto come io lo chiamo, parrocchia online, perché voi chiamate, diciamo, voi si collegate per celebrazione insieme, ma invenzione della canonica online. Questo non mi aspettavo, perché ogni mattina, dalle 11, certe ore, fino, diciamo, ore di pranzo, 12 e mezza, io ricevo le chiamate e ripeto il numero 0039, se qualcuno chiama da fuori Italia, ma se in Italia 338 15 14 450, allora la gente chiamano, videochiamate, questa è una cosa bellissima, perché parlo con uno, ma c'è altra chiamata, poi devo richiamare e vedo tante volte le famiglie insieme, benedico loro, anche quei malati, ho avuto già casi, quelli che stanno in quarantena da soli anche, avendo coronavirus, allora incoraggiamento, certo, tante volte le lacrime, ma quella benedizione, di quello stare così vicino, e io penso che questo essere, potrebbe essere, diciamo, un invito a tanti sacerdoti, che potremmo creare, e perché abbiamo questo cellulare, perché abbiamo Whatsapp, e tramite Whatsapp si arriva, nessuno contagia l'altro, ma solo può contagiare con amore, perché è vicino l'altro, quando ci sono problemi, chiamate, perché veramente cerco, è tutto possibile, di arrivarci, di dare, diciamo, l'aiuto, ma domani, oggi, sabato, giorno dedicato alla Madonna, allora si rivolgiamo a lei, sicuramente il pensiero va verso Pompei, la nostra madre santissima del Rosario, diciamo Rosario, ma poi domani, 22, domenica, ma certamente il pensiero ci va verso Annaia, in Libano, ogni 22, la processione da Eremo, di San Charbel, fino a dove sta la sua tomba, ma certamente non lo faranno come, diciamo, in questo tempo di coronavirus, in modo diverso, ma certo che la gente non parteciperà così come sempre, ma lo stesso noi domani, alle 10, ci rivolgiamo a San Charbel, preghiamo, ma è importante, e lo chiediamo, intercessione sua. Così, cari fratelli e sorelle, vi ringrazio anche per qualunque aiuto che voi fate, certo sul portale c'è possibilità di aiutarmi per queste organizzazioni, domani mi devo spostare, da solo anche tanti chilometri, perché mi devo spostare a casa, dove abiterò, perché adesso ero in affitto, in un appartamentino, mi ha trovato a questa situazione, come tanti di noi, e non potevo muovermi, ma non avendo possibilità più economiche, mi sono, diciamo, devo trasferirmi a casa, dove dovevo andare, ma dovevo subito preparare tutto, per abitare, e veramente da lì, posso stare, diciamo, e portare avanti questo apostolato, per il Signore, ma per tutti voi, così carissimi, vi ringrazio, e vi saluto, e vi abbraccio, e sono, sono con voi, anche se lontano, ma non fa niente, l'importante è che il cuore è vicino, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Grazie a tutti.